buongiorno alla redazione di fano tv sono nei passeggi faccio vedere ancora una volta che il canale è pieno di gomme adesso c'ho gli alberi ma comunque per lunghi tratti è pieno ci saranno non so quanta gomme e altro e l'altra volta ho visto che il canale era stato ripianato d'acqua ma nessuno avevo ripulito tutte queste cose cioè è pieno invaso da tutti i rifiuti di tutte di più specialmente gomme di auto e non vorrei che si rifacesse la stessa cosa riempendo il canale con l'acqua ma non ripulente da tutti questi abbandoni che chissà chi è questi personaggi che buttano le gomme nel canale